Allora, oltre a Cocomino, io so che tu è una roba buonissima. Bellissima modella e coltrizia. E' bellissima anche quando fa la spesa per il suo film show. Allora, oltre a Cocomino, io so che tu è una roba buonissima. Che cosa gli ha detto? Quelli! Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni. No, vabbè. E questi come se lo aggiano? Così. Vero? Sì, sì. Guarda che meraviglia. Vabbè, dai, c'è. Tipi d'India. Che te lo dico a fare. Bravissima. Muzzica. Mm! Bentornata, Elisa. Veniteci. Tre steverino. Che meraviglia. E Sniglia. Allora. إ67. Unora.